Come cambiare la tua casa senza cambiare casa? Con i colori, gli stili, i materiali, dei tessuti che ti accompagnano tutti i giorni. Come la Zucchi Collection, prodotti eleganti e raffinati. Ispirati ai disegni degli antichi blocchi da stampa del Museo Zucchi, la più grande collezione al mondo. Un vero viaggio nella storia del tessile, motivi floreali, cashmere, geometrici o pittorici. Fino all'art nouveau e all'art déco. È perfetta per un pubblico sofisticato, attento alla qualità e al bello. Belli da vedere e anche da toccare, grazie al preziosissimo Cotton USA, coltivato responsabilmente e sinonimo di qualità e morbidezza. Sono prodotti Zucchi Real Time Selection, scelti per te da Real Time, per fare di una casa la tua casa.